Lei si occupa? Sì. Come si chiama? Io? Sì. Che pezzi ancora? Da quanto tempo si occupa della tomba di famiglia di Montanelli? Da che lavoro qui è che aiuto Fiorario? Sarà sei o sette mesi. Intro veniva sempre, l'ha visto che è da vivo venire qui? Oddio, un po' di volte non mi speravo, non lavoravo, vorrei guardare qui. Ecco, questa è l'urna dove riposano le ceneri di Intro Montanelli. Eccolo, Intro, qui una foto, giornalista, nata a Pucecchio. Sì. Il 1909, morto a Milano nel 2001. Eccola qui. E questa è l'urna di Intro Montanelli. Il grande giornalista, non soltanto grande giornalista scrittore, nella sua tomba di famiglia, con tanti Montanelli vicino. E lui aveva paura della morte, Intro temeva la morte come tutti i grandi, che hanno una grande personalità e hanno paura di perdere la propria identità. Ma più che oltre a essere stato un grande giornalista, è stato un grande dopo scuola. Ha forgiato le nostre menti, ci ha condizionato alla cultura libera. E ci ha formato come uomini, ci ha formato come cittadini, ci ha formato con l'essenza di dire agli altri quello che pensiamo, in uno stile accettabile, senza fronzoli, e Intro rappresentato alla cultura, quella che tutti dovremmo noi parlare, scrivere, conversare, comunicare. E Dio abbia pietà di te, forse per il giusto orgoglio, ma di fronte a Dio ogni orgoglio diventa per l'appunto cedere. E tale si è diventato il cedere. E noi ringraziamo Dio e lo invochiamo perché abbia cura di te e posso utilizzarti come giornalista, come opinionista, come solo tu sapevi essere su questa terra. Visto che di orfani ne hai nasciati tanti perché hai avuto per amante l'unica cosa bella che piaceva a noi, quella cultura non adombrata di latinismo, di saccenderia. E sei stato uomo, un uomo tra gli uomini. Grazie. Vengono molti visitatori qui? Sì, è abbastanza. Giornalisti, colleghi? Sì, per le feste. Per le feste grandi. Molto onorato. Si vede parecchio via vai. Uomini politici, arriva qualcuno o uomini politici no? Più che altro? Amici. Amici? Giornalisti. Chi ricorda come persona importante, diciamo che è importante qui su questa terra? Sì, ma non riconosco. Non riconosco. Però vengono, sono qui. Sì, perché ci dichiarano la chiave, perché noi c'è poi la chiave. Il papà di Montanelli dove riposa? Professor Sestiglio dovrebbe essere, è certo. Questo? Almeno, non so di sicuro. Spostiamo una pianta, un po', così. Ecco qui. E questa è la madre? E quella è la madre, sì. Mattarena Dottoli? Di Montanelli, sì. Sì, di Montanelli. Grande accoppiato ovviamente la madre che ha dato, ha dato la vita a questo genio della cultura italiana. È vero. È un grave. E qui c'è praticamente ai lettori, ai lettori. Sì, c'è una lettera. C'è una lettera di Luciano Carmoniani. E vediamo cosa dice. Cosa dice? Lei in un attimo di distrazione si è addormentata per sempre. Ma noi, assieme ai frequentatori, ci rifiutiamo di soggiacere le leggi biologiche di questa terra. E ci attendiamo una smentita. La sua ringerità fisica ed intellettuale ci aveva convinti della sua immortalità. Non ha lasciato nulla in sospeso con i suoi lettori. Lei ci ha salutati con un arrivederci a settembre. Quindi noi lo aspettiamo. Se il nostro desiderio non venisse saluto, il Padre Eterno, per i meriti acquisiti su questa terra, le concederà in via del tutto eccezionale di continuare la sua corrispondenza anche da Rassù, da qualche parte nel Cere, quando si sarà annoiato del paradiso, la manderà in missione nel purgatore in rinferno. La sua brillante penna intrisa di vereno satirico potrà contribuire a globalizzare in cielo. Se così fosse, la preghiamo di comunicarci in suo nuovo indirizzo. Arrivederci. Al di là nel tempo dello spazio non sappiamo dove né quando ci rincontreremo. Allora... Grazie.